Ciao a tutti miticissimi, bentornati a questa nuova viola blog di oggi oggi mitici torniamo a parlare di alcune applicazioni gratuite per l'iPhone visto che sono i video che voi preferite in massa quindi oggi vi faccio vedere un gioco, un'applicazione, un utility o un inutility diciamo e poi un social network quale il twitter, un programmino molto bellino anzi andiamoci subito a vedere l'iconcina è questa questa qui è blu, twitter font twitter font anzi come vedete è molto molto semplice e gratuita e possiamo avere tutte le funzionalità che ci da quasi il 100% delle possibilità che ci da twitter direttamente dal nostro computer infatti vedete possiamo vedere tutta la nostra schermata dei twitter che noi seguiamo e dei nostri twitter personalizzati e poi abbiamo le mention i messaggi che ci arrivano di risposta i messaggi diretti i nostri twitter favoriti e poi per cercare un qualcosa vi ricordo a tutti di aggiungermi il twitter perchè io lo uso quotidianamente tantissimo per scrivere quello che sto facendo, novità, nuovi upload di video eccetera molto molto semplice in twitter cercate Guerz86 quindi non è anche difficile poi poi ieri sera mi sono preso Waiterslide la penultima concina non so se si vede perchè sto registrando uno screen flow praticamente è un gioco gratis è un po' demente che praticamente cosa facciamo dobbiamo scendere in un percorso come gli scivoli d'acqua ma sono già a cascare insomma si basa con l'accelerometro molto molto divertente perchè proprio sono dei veri proprio percorso con gli scivoli d'acqua e potete scaricarlo gratuitamente poi vi faccio vedere Face Mixer perchè è gratis per un brevissimo periodo di tempo quindi io l'ho preso gratis però non so se se per voi è ancora gratis praticamente serve per per diciamo Facebook o altri client praticamente noi possiamo fare un mix vedete questa faccia è completa però noi la possiamo anche stravolgere in questa maniera qua vedete abbiamo stravolto un volto però possiamo anche prendere delle foto dalla nostra libreria e stravolgere i nostri diciamo i nostri volti vi ricordo Face Mixer poi per adesso non ho trovato altro che mi stuzzicava nell'App Store quindi mitici ci sentiamo al prossimo Viola Blog e mi raccomando sono 497 iscritti tre persone che si iscrivano oggi al mio Viola Blog così arriviamo alla meta di 500 iscritti ciao a tutti mitici mi raccomando state sempre con il vostro Guerzo 86 e vi ricordo Emanuele Guerrini Guerrini in Facebook e Guerzo 86 in Twitter aggiungetemi e vi aspetto ciao a tutti mitici Grazie a tutti Grazie a tutti